Questa mattina siamo con la protezione civile a Venaria per la seconda edizione di Liberiamo i Ponti. Il responsabile della protezione civile del comune della città Giuseppe Briguglio. Questa mattina siamo qui per la seconda edizione di Liberiamo i Ponti, in pratica un intervento di esercitazione di protezione civile che ha una doppia finalità, che è quella esercitativa della squadra di protezione civile e anche un intervento logistico, ovvero e proprio, di pulizia delle pile dei ponti che sono intasate dalle ramaglie e adesso verranno ripulite. È un intervento che comunque avrebbe dovuto fare l'amministrazione comunale o gli altri enti, proprio per consentire il miglior deflusso delle acque in caso di eventi. La protezione civile continua a monitorare il territorio? Sì, allora la protezione civile è qui in questa veste di esercitazione, che però è bene sapere che loro sono presenti sempre, anche non quando ci sono eventi di gravi calamità, loro sono sempre presenti a monitorare il territorio, a monitorare i flussi dell'acqua, i canali minori, i torrenti e tutto quello che serve per preservare il territorio da eventi improvvisi, non controllati. I giovani volontari sono ancora pochi? Sì, dunque sono ancora pochi, però ogni tanto si iscrive qualcuno che ha questa passione della protezione civile, si sente in dovere di fare qualcosa e lo fa anche con passione. Abbiamo qui Filippo Balocco che è da poco che si è iscritto nel gruppo di protezione civile, è venuto in comune a chiedere informazioni per come fare, molto appassionato di ambiente, natura e comunque è un ragazzo che studia e se non sbaglio è prossimo alla laurea. Vuoi dire qualcosa? Sì, dopo che il geometra Briguglio mi ha raccontato cosa si faceva in protezione civile, sono entrato, poi pian piano mi sono appassionato e adesso partecipo anche alle esercitazioni sia di Venaria che nazionali. Un invito ai tuoi coitanei? Provate perché si scoprono cose nuove quindi si può imparare molto anche da queste esperienze. Ecco ti vediamo con un giubbino salvagente, cosa farai quest'oggi? Oggi andiamo nel fiume con il canotto per legare dei tronchi che si sono ancorati ai piloni e poi da terra li porteranno fino a riva. Cosa bisogna fare per entrare nella protezione civile? Basta andare in qualsiasi associazione che c'è sul territorio e si inizia, ci si iscrive e poi si continua un percorso formativo per ogni specializzazione. Il presidente dell'associazione Volontari Giuseppe Dal Mazzo, volontari della protezione civile. Questo intervento è programmato da due o tre mesi e ogni anno facciamo la pulizia dei vari ponti perché diventa pericoloso l'ammucchiarsi delle ramaglie, degli alberi distrutti che vengono appoggiati ai piloni del ponte. Perciò da partire dal ponte Verde, al ponte Castellamonte e al ponte Cavallo ormai sono tre settimane che facciamo questo intervento e speriamo oggi di finire, sperando che la giornata ci accompagni fino a questa sera che si abbia il tempo e non piova. Com'è la situazione del Ceronda? La situazione del Ceronda in questo momento è tranquilla perché oltre a 15 giorni fa che ha fatto quella grossa buriana di notte, si è abbassata e perciò non c'è nessun rischio per il momento. Per quanto riguarda le varie ramaglie? Le ramaglie certamente, Castellamonte e Ponte Verde ne abbiamo fatto un bel mucchio, qui ne faremo un altro bel mucchio, comunque arriveremo a pulirlo, a toglierle tutte. Protezione civile sempre presente? Sì, sempre a disposizione dell'amministrazione e dei cittadini perché noi interveniamo laddove c'è bisogno per quanto riguarda il nostro compito. Protezione civile è sempre presente, non solo come esercitazione ma anche per monitorare il fiume, i ponti e tutte le varie calamità. Sì, è un ringraziamento particolare perché oggi stiamo lavorando con la protezione civile, gli uffici del comune e della protezione civile alla pulizia del ponte di Veneria che potrebbe essere un potenziale pericolo in caso di piogge forti, ci stiamo avvicinando alla stagione particolarmente coinvolta. La protezione civile e tutti i volontari hanno veramente un ringraziamento particolare da parte di tutta la cittadinanza perché è un lavoro veramente utile e importante. Grazie a tutti.